Secondo i dati diffusi dal rapporto di Polis Lombardia, sono soprattutto nell'oltrepocollinare montano i comuni della provincia di Pavia a più forte rischio spopolamento. Una situazione causata dall'invecchiamento della popolazione e dalla mancanza di prospettive lavorative sul territorio che spingono i giovani a spostarsi in altri centri. Eppure, forse un po' sorpresa, il mercato immobiliare in queste zone non è affatto in crisi, anzi. Dopo la pandemia c'è stata una ripresa nelle compravendite, soprattutto per le seconde case, come spiega Fabio Bianco, presidente di FIMA Pavia, la federazione italiana mediatori e agenti d'affari. Noi peraltro comunque, per quanto riguarda ovviamente il nostro ambito, non possiamo testimoniare il fatto che ci sia una corsa a vendere gli immobili in collina. Anzi, c'è stato, devo dire, nel periodo post-covid, nell'anno 2021, sino alla metà del 2022, poi per tutti i motivi che conosciamo, il mercato ha incominciato un altro periodo di crisi, ma c'è stato un ritorno delle seconde case in collina. Certo che le seconde case, diciamo, non è che contribuiscono al ripopolamento della collina. Ovviamente hanno contribuito a un certo ritorno, anche nel confronto magari di istituire nuovi servizi, l'apertura di qualche attività commerciale, però ovvio non hanno risolto il problema. I comuni che ancora resistono allo spopolamento, prosegue Bianco, sono quelli dove i sindaci sono riusciti a mantenere i servizi, scuole, uffici pubblici, centri medici, ma anche negozi e farmacie. E nei piccoli borghi, soprattutto in estate, fiere e festival riescono ad attirare tantissimi turisti, spesso anche stranieri. Faccio un esempio tra i tanti, ad esempio sia Santa Maria che Golferenzo, ad esempio, che è assolutamente un comune che è riuscito ad estrapolare tutta una serie di servizi e di iniziative, legate anche al rilancio del turismo, con manifestazioni enogastronomiche legate alla vitivinicultura, al vino, che ovviamente è l'emblema della zona, è riuscito a riportare un interesse altissimo nei confronti di alcuni borghi che sviluppano una serie di iniziative, soprattutto nei periodi estivi, e portano tantissima gente sulle nostre colline. Grazie.